Oggi voglio proporvi un'app gratuita per migliorare la presentazione dei vostri elaborati. Ecco alcuni esempi. Per creare un vostro nuovo progetto vi basterà accedere all'app e cliccare sull'icona del più. L'app accederà alla vostra galleria e vi chiederà di selezionare le immagini da importare, una o più di una, e poi cliccate sul tasto Importa. Una volta importata la vostra immagine potrete decorarla a piacere. Nella prima icona troverete le cornici. Alcune, come vedete, hanno il lucchetto e quindi sono bloccate, sono a pagamento. Tutto il resto è gratuito. Quando la vostra immagine o il vostro elemento è selezionato, attraverso il tasto Freccia potete regolarne le dimensioni e l'orientamento nello spazio. Con la seconda icona, invece, sulla barra degli strumenti, accedete al menu degli sfondi. Cliccando sulla terza icona accediamo alla galleria degli adesivi. Se osservate la freccia azzurra, vi indica un elemento selezionato. Tenuto premuto il dito o la penna più a lungo, appare questa finestra, che vi chiede se volete duplicare questo elemento, sovrapporlo agli altri o disporlo al di sotto. In qualsiasi momento potrete cancellare un elemento, semplicemente trascinandolo verso il basso e vi apparirà questa finestra con il cestino. Per inserire il testo vi basterà cliccare sulla quarta icona e avrete l'opportunità di scegliere font e colori. E al termine del nostro lavoro ci basterà cliccare sul tasto in alto a destra salva. Il mio lavoro di impaginazione è terminato e adesso tocca a voi. Alla prossima!